Torniamo in diretta per la puntata numero 146 10 minuti con il legionario Abbiamo moltissime cose di cui parlare Partiamo innanzitutto dalla disfatta di ieri pomeriggio Della Roma che ha perso malamente Purtroppo contro il Parma per 2-0 Una Roma che perde contro una squadra che molto probabilmente l'anno prossimo giocherà in Serie B Un Parma che non vince A da novembre Ovviamente gli uomini di D'Aversa hanno vinto meritatamente sulla squadra allenata da Paolo Fonseca Una Roma che ha fatto fare al Parma quello che voleva E una Roma che l'ha persa da sola la partita Perché il Parma è andato in rete dopo al primo tiro Dopo un errore grave di Cumbulla che si è fatto saltare E dopo un errore ancora più grave di Bruno Perez Che si dimentica la marcatura sull'autore del gol Una Roma che regala anche il secondo gol al Parma Ma poi insomma calcio di rigore o meno C'è stata un'ampia discussione sull'arbitraggio di ieri Anche giusta perché insomma non è stato impeccabile proprio l'arbitraggio di Parma-Roma Una Roma che ha da recriminare un calcio di rigore All'inizio su un fallo ai danni di Lorenzo Pellegrini Quello è calcio di rigore netto C'è stata molta polemica anche sul fallo di Bagnez Su Graziano Pellegrini Che poi ha portato al rigore del 2-0 C'è chi dice che non fosse calcio di rigore C'è chi dice invece che sia stato giusto fischiare il penalty Però fatto sta che ieri la Roma ha meritato di perdere Una Roma che ha fatto girare molto il pallone Però molto imprecisa Una Roma poco cattiva e poco concentrata E non è la prima volta purtroppo in questa stagione Che non è la prima volta che non si riesce a dare continuità In quanto a concentrazione e cattiveria in determinate partite Venivamo da una vittoria importantissima contro lo Shakhtar per 3-0 Tra l'altro la Roma giovedì andrà in Ucraina Per affrontare il ritorno dell'ottavo di finale di Europa League Contro lo Shakhtar Donetsk Tornando a parlare però della partita contro il Parma Una Roma che purtroppo ieri io salvo solo Mancini in quanto a prestazione Ha sbagliato alcune cose anche lui Però in quanto a spirito, in quanto a concentrazione, a cattiveria Veramente l'unico che salvo E un po' Carles Perez quando è entrato ha fatto qualcosa E ha cercato di smuovere un po' gli animi della partita Per il resto ieri una prestazione oserei dire imbarazzante Da parte degli altri che erano in campo Però serve equilibrio Dicevo prima venivamo da una vittoria importante contro lo Shakhtar In cui oltre ai tre gol La Roma ha veramente dominato Ha dimostrato di essere una squadra tosta, solida Giocando veramente una partita quasi perfetta contro gli ucraini E concedendo pochissimo In quanto proprio a prestazione di sostanza, di qualità Avevamo fatto la partita che serviva In quanto a concentrazione anche Che è un po' il limite caratteriale di questa Roma Di cui si è parlato moltissimo quest'anno Che poi ti porta a non vincere determinate partite Ovvero i big match Però purtroppo ieri che era tutt'altro che un big match È mancata questa cattiveria È mancata la concentrazione Oserei dire anche La stanchezza sicuramente la fa da padrone Nel senso che non è un alibi per la Roma Per carità Però è una Roma che non si è mai fermata Ha giocato 11 partite in 35 giorni Mi sembra veramente un dato folle È una Roma che giovedì rigiocherà un'altra volta Ovviamente i giocatori non sono macchine Per cui sicuramente la stanchezza ha influito La Rosa Insomma ci sono giocatori che Fanno gli straordinari E ovviamente alcuni sono un po' stanchi Però ecco Sicuramente Parlare di stanchezza e di arbitraggio Soprattutto sarebbe troppo riduttivo Perché è vero che Ieri probabilmente alla Roma Mancava un calcio di rigore Per un fallo su Pellegrini Ma è pur vero che ieri la Roma Non è scesa in campo Abbiamo fatto tutt'altro che una buona partita Un Parma che Diciamo che ha fatto la partita che doveva fare Una squadra solida Una squadra cattiva Grintosa Che ha recuperato tutti i palloni possibili Ha vinto tutte le seconde palle Contro i giallorossi Che praticamente non hanno fatto la prestazione Che dovevano fare Poco cattivi sotto porta Poco lucidi Pochi tiri in porta soprattutto Penso al tiro di Carles Perez Me ne vengono in mente pochi L'occasione di Dzeko A inizio partita Per il resto Tanto possesso palla Tanti errori però Anche in fase di impostazione Molti passaggi sbagliati E una Roma poco cattiva E poco concentrata Un po' un limite purtroppo Che in alcune partite si è riscontrato Quest'anno Va detto Però serve equilibrio Ovviamente non bisogna Mandare tutto all'aria Purtroppo l'equilibrio Manca un po' In questa piazza In determinate situazioni Adesso bisogna ripartire Con molta serenità E dice una partita E dice una partita importante Tutt'altro che scontata Anzi È vero Veniamo da un 3-0 Che ti lascia un po' Di tranquillità Ma è una Roma Che deve rimanere concentrata Sul pezzo Perché lo Shakhtar Ovviamente Vorrà fare la partita Della vita Per cercare di rimontare È una Roma Che deve centrare Assolutamente I quarti di finale Di Europa League Perché abbiamo dimostrato Di poterci ampliamente stare In questa competizione E soprattutto La fame deve essere tanta E la fame deve essere quella Di arrivare in fondo A questa competizione E la partita di giovedì Deve essere affrontata Come se avessimo pareggiato Per 0-0 Allo Stadio Olimpico Lo Shakhtar Che proprio ieri Ha vinto 4-0 contro il Desna È uno Shakhtar Che è secondo Nel campionato ucraino A 39 punti Prima c'è la Dinamo Kiev A 43 punti Uno Shakhtar In forma quindi Che all'Olimpico Non ha impensierito Più di tanto I giallorossi Anche se Paolo Lopez Ha fatto un paio Di parati importanti Una Roma che Ha fatto Forse una delle migliori partite Di tutta la stagione Contro lo Shakhtar Una Roma solida Hanno giocato veramente Tutti molto bene Ecco La speranza è che I giallorossi Possano replicare La prestazione Di giovedì scorso Una Roma che Dopo lo Shakhtar Affronterà Domenica Ore 20.45 Il Napoli In un big match Importantissimo Un Napoli Che ieri ha vinto Per 1-0 Contro il Milan La squadra di Gattuso È in ripresa Ha fatto una buona prestazione Contro i Rossoneri Ieri sera Vincendo Meritatamente È una Roma che Deve vincere Assolutamente Perché i partenopei Sono a pari punti Con noi A 50 Una Roma che Al momento è sesta A 50 punti Napoli quinto Atalanta L'Atalanta invece è quarta A 52 punti Conduce la classifica L'Inter A 65 punti Ormai l'Inter Sta facendo completamente Un altro campionato Se così si può dire I nerazzurri Diciamo che Possono perderlo Soltanto loro Questo scudetto Il Milan Invece è secondo A 56 E una Juventus Che è terza A 55 punti I dettagli Faranno la differenza Si giocherà Fino all'ultima giornata Sarà uno scontro Tra queste squadre Dal Milan Alla Lazio Se vogliamo Metterla dentro Anche se La vedo personalmente Un po' fuori Dalla corsa Però Per La seconda La terza La quarta posizione Sarà una lotta Tra queste squadre Ed è una Roma che Lo scontro diretto Contro il Napoli Lo deve vincere Per forza Non ci sono alibi Non ci sono giustificazioni Una Roma che Se vuole entrare in Champions Deve vincere Ricordiamo sempre che L'altra porta Per accedere Alla fase a gironi Della Champions League Sarebbe la vittoria Sarebbe la vittoria In Europa League Apposta insisto molto Sul fatto che la Roma Deba puntare a vincere Questa competizione Ovviamente per aggiornare La bacheca E tutto quanto Perché è un trofeo E come ogni competizione Va giocata per vincere Però Anche il fatto di Di vincerla Di vincere l'Europa League Appunto Ti permetterebbe Di entrare Di diritto Alla fase a gironi Della Champions League E questa è veramente Una cosa che non va Sottovalutata E non è una cosa Secondaria La Roma Veramente deve puntare A fare Il meglio In questo finale Di stagione Ambo le competizioni Sia in campionato Dobbiamo cercare Di arrivare Tra le prime quattro Non sarà facile Perché Adesso La Juventus È uscita con il porto Per cui ha solo Il campionato E quindi Ha meno carico Sulle gambe Diciamo che L'Europa League Si fa sentire Giocare di giovedì Si fa sentire Anche il Napoli Non ha competizioni Il Milan Il Milan è vero Deve giocare con il Manchester Ieri ha avuto Questa battuta Dal resto Per cui potrebbe Essere compromesso Anche il secondo posto Dal momento che La Juventus È a meno uno Dai rossoneri È una Roma che Bisogna fare pochi calcoli Bisogna vincere E basta Prima dicevo Parlavo dei dettagli Dettagli che Possono fare la differenza Ad esempio È quello Un dettaglio Che può fare la differenza È il punto Che È stato negato Alla Roma In quel di Verona In questo momento è in corso Alconi L'udienza Per quanto riguarda Il caso di Avarà Legato a Verona Roma In serata Dovrebbe arrivare La sentenza Speriamo di avere Esito positivo Ovvero che Il 3-0 Ottavolino Di cui tutti quanti Ricorderete È stato È stato rimosso E che alla Roma Appunto viene concesso Il punto di Il punto di Verona È vero Sembra un punto Ma non è Così scontato Perché Sarà Come dicevo In precedenza Una battaglia Fino all'ultima giornata E per cui Anche un punto Può fare la differenza Per il nostro piazzamento A fine campionato Ovviamente Con questo punto in più La Roma Andrebbe a 51 punti Ricordiamo Che Juventus Napoli Però Deve essere ancora Recuperata Tra l'altro Adesso ci arriviamo C'è stata Una protesta Giusta Da parte dei tifosi Della Roma Che sui social Hanno dato voce Insomma Alla causa Della Roma Che poi Con la sua società Si è comportata Benissimo Personalmente parlando Inviando una lettera Alla Lega In cui si chiedevano Delle informazioni Appunto Sul rinvio Di Juventus Napoli Un rinvio Che A cui non è stata Data risposta Per quanto riguarda Le motivazioni Ma è stata Rigettata Comunque La richiesta Della Roma Di poter Rinviare La partita Contro il Napoli Dal momento che A quanto pare Napoli Napoli e Juventus Si sarebbero accordate Per rinviare La partita Impedendo così Sì ai partenopei Di fare tre trasferti Importanti Perché il Napoli Avrebbe affrontato Il Milan Ieri La Juventus Il 17 Quindi dopo domani E la Roma Domenica Per cui Questo è un vantaggio Notevole per il Napoli Che ha una partita In meno Nelle gambe La Roma invece Giocherà giovedì Contro lo Shakhtar E di nuovo domenica Contro il Napoli Che sarà riposato Perché preparerà Una partita In questa settimana Anziché due Come avrebbe dovuto fare Però insomma È stato fatto passare Tutto in secondo piano E quindi La partita Non è Non è posticipabile Dal momento Che per quanto riguarda Le coppe C'è bisogno Secondo la Lega Di una richiesta Di almeno 15 giorni Di preavviso Per poter rinviare La partita Però comunque Ho apprezzato molto La presa di posizione Dura Da parte della società Che si è fatta sentire Inviando questa lettera Di reclamo Giustamente Perché insomma Sembra un po' Una presa in giro Ecco Assistere a certe cose E ovviamente La Roma avrà Una partita in più Sulle gambe E questo Sembra non fare La differenza Ma in realtà Fa tutta la differenza Del mondo Comunque La Roma Alibi a parte Ovviamente Questa è una cosa Che influisce Però Deve scendere in campo Domenica E vincere Contro la squadra Di Gattuso Prima però C'è lo Shakhtar E ovviamente Anche giovedì La Roma dovrà fare Un'ottima partita Per restare Incollata Al tren Europa League Perché possiamo Sicuramente Dire la nostra In questo momento Si sta giocando Roma Bologna Di Primavera Ultima giornata Del girone di andata Una Roma che cerca Di tornare in testa Dopo l'aggancio Dell'Inter In questo momento Il parziale È fermo Sullo 0-0 Con la speranza Che i ragazzi Di Alberto De Rossi Possano portare A casa una vittoria Invece Per quanto riguarda La Roma femminile Una Roma femminile Che vince Per 2-1 Sulla Juventus Nella semifinale Di andata Di Coppa Italia Facciamo un in bocca Lupo Alle nostre ragazze Per la partita Di ritorno Con la speranza Che la nostra Roma femminile Possa raggiungere La finale Di questa competizione E poi vincerla Sarebbe veramente Ottimo Siamo in chiusura Oggi Allenamento di scarico In quel di Trigoria Smalling e Mkhitaryan A parte Purtroppo L'inglese Ha un problema Alla coscia sinistra Peccato Questi maledetti Guai fisici Per Chris Smalling Per Mkhitaryan Invece Lesione al soleo destro Una perdita importante Quella di Mkhitaryan Che rientrerà Sicuramente Dopo la sosta Ragazzi Io vi invito A seguirci Sul nostro sito www.illegionario.info Trovate tutti i nostri articoli C'è la magia nera Del calcio italiano A cuora di Antonio Pastore Poi c'è L'articolo Su Parma Roma Troverete anche Gli articoli Di Shakhtar Roma E ovviamente In settimana Anche quelli di Roma Napoli Seguiteci Sui nostri social Su Facebook Mettete like Alla pagina Seguiteci Su Instagram Su Twitter Sul nostro canale Youtube Dove potete vedere Tutti i nostri video E ascoltare Tutti i nostri podcast Oltre che Alla nostra Web Radio Spreaker Il Legionario Detto questo Io vi saluto Un saluto a tutti E sempre sempre Forza Roma Grazie a tutti i nostri video